Sindaco Maurizio Brucchi, è vero che sono a rischio gli stipendi? Basta chiedere oggi ai dipendenti della Terramambiente se hanno preso lo stipendio. Quindi mi sembra che anche qui è ora di farla finita da parte di qualcuno, anche di qualche dipendente, che magari si diverte a creare degli allarmismi che non rispondono a verità. Non c'è nessuna difficoltà nel pagare gli stipendi come non c'è stata fino ad oggi. Gli stipendi sono stati garantiti sia per il Comune che per la Teamo. C'è un discorso di criticità oggettiva perché il Comune di Teramo è in anticipazione di cassa, ma questo lo sappiamo. Noi non riceviamo trasferimenti dal Governo l'ultimo a febbraio di quest'anno. La Tari e la Tasi che vengono pagati dai cittadini vanno prima a Roma, vengono versati e vanno nelle casse centrali e poi le casse centrali le rigirano al Comune di Teramo. Noi oggi ancora non abbiamo in cassa i soldi che i cittadini teramani hanno pagato il 5 di ottobre. Quindi questa è la realtà. Allarmismi inutili fatti ad arte da parte di qualcuno che pensa di creare difficoltà, magari anche al sottoscritto, ma sbaglia via numero e caso. Per quanto riguarda il Presidente, ancora non c'è il Presidente, nulla ossa per il nuovo non è arrivato. Sarà Giovanni Mattucci? Guardi, siamo ancora in attesa del risultato, chiamiamolo così, definitivo da parte del Ministero. Perché alla prima risposta del Ministero sono stati posti alcuni chiarimenti, alcuni ulteriori quesiti. Mi risulta che il Ministero in settimana risponderà. L'Assemblea è stata convocata per il 23 in prima convocazione e per il 28 in seconda convocazione. Se per quella data non arriverà la risposta, io nominerò un'altra persona. Il Presidente c'è perché Fernando Cantagalli si è pure in prorogazio, quindi la governance c'è, può fare solo l'ordinario, ma in questo momento l'ordinario deve fare. Perché vorrei ricordare a tutti quanti che l'aspetto più importante in questo momento è la valutazione dell'azienda che arriverà entro fine ottobre. A quel punto il passaggio successivo sarà quello di liquidare il socio privato e decidere. E quello sì che è una scelta importante da fare, non queste cose sicuramente di minore importanza. se la team dovrà essere una società totalmente pubblica o dovrà restare una società pubblico o privato.